Sono arrivati! Buongiorno dell'ingraziamento. Aspetta che ci faccio entrare. Figurati. Chi vuoi puoi venire a casa nostra? Mettiti il cappello. Dove sono le bambine? Non le trovo. Anna! Joy! Non riesco a trovarle! Papà, c'era un camper e loro ci stavano giocando. C'era qualcuno dentro. Detective Loki. Lei ha bambini, detective. Troverò le vostre figlie. Dove hai nascosto le bambine? Dove sono? Ti hai trovato? Niente, il camper sembra pulito. Quel ragazzo non si è messo nei guai neanche una volta. Lo rilasceranno. Cosa? È come un bambino di dieci anni. Non può averle rapite e fatte scomparire. Forse non agisce da solo. Mi lasci fare il mio lavoro. Ogni giorno si chiederà perché io non sono con lei. Io non lei, detective. Non lei! Ma io! Keller, ma che diavolo hai fatto? Qualcuno deve farlo parlare o loro moriranno. Sono sparita da cinque giorni. Non c'è più tempo. Non sai neanche se è stato lui. Perché non me lo dichi? Non è giusto. Perché? Il ragazzo sta fingendo. Le bambine sono viver. Non giocare. Non giocare. Perché? Egli. Perché? Grazie a tutti